Il Festival dell'Ediano è la prima iniziativa dell'Associazione Grazia dell'Eddo, una Nobel a Cervia, che si è costituita con l'obiettivo prioritario di promuovere l'eredità della scrittrice cittadina onoraria di Cervia, prima scrittrice italiana ed unica finora ad aver vinto il premio Nobel. Il Festival è estremamente importante perché conterrà elementi di riflessione, di condivisione, di memorie, di ricordi, di spettacolo, di teatro, di divertimento, tutti nel nome dell'opera di Grazia dell'Edda, ma soprattutto perché si svolgerà Villa Caravella, che è la villa molto amata dalla scrittrice, comprata dalla scrittrice con i soldi del premio Nobel e che le ha consentito di mettere radici a Cervia, Cervia che è stata scelta dalla dell'Edda come sua seconda casa, come sua seconda città, vi ha passato tutte le sue estate dal 1920 al 1935, lasciando tracce memorabili sia sul fronte della produzione letteraria, ma appunto anche, come dicevo, fisiche, cioè Villa Caravella, che vorremmo recuperare e avvicinare quantomeno questa villa ai cittadini, perché questa villa è ancora un po' una sconosciuta per i cervesi, non parliamo poi dei turisti, non è segnalata, non aveva una targa storica che la riconoscesse, ora piano piano avrà tutto questo e questo secondo noi lascerà un ricordo indelebile della scrittrice legando il nome della nostra città alla nostra cittadina onoraria più illustre.